Ciao a tutti investitori e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un'ipotetica opportunità di investimento che, se sfruttata al momento giusto, avrebbe potuto generare rendimenti davvero sorprendenti. Torniamo indietro al marzo 2020, quando il mondo era nel pieno della pandemia da Covid-19. I mercati azionari erano in caduta libera, con la paura e l'incertezza che dominavano il panorama economico. In quel contesto di crisi alcuni investitori coraggiosi hanno visto un'opportunità. Acquistare azioni a prezzi stracciati di aziende solide, con un futuro promettente. In questo video vi mostrerò come un investimento ipotetico di 1000€ in 5 diverse aziende durante il picco minimo del Covid-19 avrebbe potuto fruttare un guadagno significativo ad oggi, quindi 8 marzo 2024. Prima di immergerci nei numeri diamo un'occhiata a ciascuna delle aziende incluse nel nostro portafoglio ipotetico. Prima, Meta Platform Meta. Facente parte del settore della tecnologia ha raggiunto un picco minimo di prezzo durante il Covid-19 di 156 dollari ad azione. Questa stessa azione attualmente ne vale 465. Che follia, una variazione del più 197%. Ma qual è stato l'impatto del Covid nell'azienda? Possiamo definire quest'ultimo come negativo a breve termine. La pandemia ha infatti causato un calo della pubblicità a causa delle difficoltà economiche delle aziende. Ma Meta ha anche saputo cogliere le opportunità a lungo termine. L'aumento dell'utilizzo di internet ha favorito la crescita per Facebook, Instagram e le altre piattaforme possedute, con un aumento dell'engagement degli utenti e del tempo trascorso sui social. La strategia aziendale adottata è stata porre focus sui prodotti core. Facebook ha concentrato i propri sforzi su miglioramento dell'esperienza utente, ma ha anche sviluppato nuovi prodotti come Reels e Marketplace. Inoltre ha anche investito in intelligenza artificiale e nella realtà virtuale. Si è anche espansa in nuovi mercati come Asia e Africa, sviluppando servizi adatti alle esigenze locali. Seconda azienda nel nostro portafoglio è JP Morgan Chase & Co. JPM. Operante nel settore finanza, ha raggiunto un picco minimo di 83,5 dollari. Il suo valore attuale è di 192, una variazione percentuale di 129%. Non male direi. L'impatto del Covid-19 ha posto molte sfide iniziali. La pandemia ha causato un aumento dei crediti inesigibili e una diminuzione della volatilità del mercato, che ha influenzato negativamente i ricavi da trading. Per JP Morgan è stata a tutti gli effetti una prova di resilienza a lungo termine. La banca ha beneficiato di forti riserve di capitale e di una diversificazione in molteplici settori, dimostrando una solida resilienza durante la crisi. La strategia aziendale utilizzata è stata quella di supporto ai clienti. La banca ha infatti offerto rinvii di pagamento e soluzioni di credito flessibili ai clienti colpiti dalla pandemia. Ma non finisce qui. Sono stati posti in essere anche investimenti in tecnologia, accelerando gli investimenti in piattaforme digitali ed intelligenza artificiale, per migliorare l'efficienza e l'esperienza del cliente. Come terza azienda di nostro interesse troviamo Johnson & Johnson, JNJ. Settore salute. Picco minimo Covid-19, 119 dollari. Valore attuale 148,5. Una variazione del più 24%, la più umana fra tutte. L'impatto del Covid-19 ha rappresentato per loro un'opportunità nella lotta al virus. Lo sviluppo e la distribuzione del vaccino di Johnson & Johnson ha generato un aumento significativo dei ricavi e del valore azionario. Inoltre la sua continuità nel core business ha favorito forti vendite di prodotti farmaceutici di consolidamento, come i farmaci per l'artrite reumatoide e i trattamenti contro il cancro, che hanno contribuito a compensare l'impatto iniziale della pandemia. La strategia aziendale è stata sviluppare rapidamente un vaccino. Johnson & Johnson ha priorizzato la ricerca e lo sviluppo del vaccino Covid-19. Investendo risorse significative e collaborando con partner globali. Con focus sulla salute a lungo termine, l'azienda ha continuato anche a investire in research and development e in altri settori terapeutici chiave, come le malattie cardiovascolari e quelle neurologiche. La quarta azienda è Boeing. BA, colosso del settore dell'industria aerea, ha avuto un picco minimo Covid-19 di 95 dollari. Il suo valore attuale è di 178,35 ad azione. Una variazione del 87%. Pazzesco! Il Covid ha impattato Boeing con una crisi senza precedenti. Il crollo della domanda di viaggeri ha causato una cancellazione di ordini, ritardi nella produzione e una significativa perdita di ricavi. La ripresa del traffico aereo post pandemia e l'aumento della domanda di nuovi veivoli commerciali offrivano l'unica prospettiva di recupero a lungo termine per Boeing, che al tempo non navigava in buone acque. La strategia aziendale è stata la riduzione dei costi. Boeing ha implementato misure di taglio dei costi, ridimensionamento della forza lavoro e consolidamento delle attività per migliorare la propria efficienza. Ha poi sviluppato nuovi prodotti. L'azienda infatti ha continuato ad investire nello sviluppo di nuovi modelli di aeromobili più efficienti e sostenibili, come il Boeing 797. Ultima protagonista del nostro portafoglio è ExxonMobil. Xom. Settore energia. Picco minimo 38,12 dollari. Valore attuale dell'azione 116. Variazione percentuale 206%. No ragazzi, qui non ci siamo. Ma che impatto ha avuto il Covid nell'azienda? Pesante, molto pesante. La pandemia ha causato una diminuzione della domanda di energia e un crollo del prezzo del petrolio, che ha avuto un impatto negativo sui ricavi e sugli utili di ExxonMobil. L'azienda ha ridotto gli investimenti, tagliando i dividendi e implementando misure di contenimento dei costi per affrontare la crisi. La strategia aziendale è quindi stata quella di porre un focus sulla redditività. ExxonMobil si è concentrata su progetti ad alto rendimento e ha ottimizzato le proprie attività per migliorare la redditività in un contesto di prezzi del petrolio volatili. Successivamente è stato posto in esse l'attenzione sulla transizione energetica. L'azienda ha iniziato a investire in fonti energetiche rinnovabili e tecnologie a basse emissioni di carbonio, preparandosi per un futuro energetico più sostenibile. Sperimentiamo ora con un portafoglio immaginario. Ipotesi di partenza. Investiamo ipoteticamente 1000 dollari in ciascuna delle aziende prima citate. Meta, JP Morgan e Chase & Co., Johnson & Johnson, Boeing e ExxonMobil. La data di riferimento per l'investimento ipotetico è il picco minimo del Covid-19, intorno al 9 marzo 2020, ma che varia di qualche giorno per ogni azienda. La data di valutazione odierna è il 7 maggio 2024. Meta, investimento iniziale di 1000 dollari, si trasforma in 2970, con un guadagno di ben 1970. Un vero e proprio boom! JP Morgan, il nostro investimento cresce fino a 2299, con un guadagno di 1299, un rendimento solido e rassicurante. Johnson & Johnson, l'investimento iniziale di 1000 raggiunge 1239, con un guadagno ipotetico di 239 dollari circa. Un risultato positivo nonostante le sfide iniziali. Boeing, una delle imprese più spettacolari, l'investimento di 1000 dollari si impenna fino a 1877, con un guadagno ipotetico altissimo di 877 dollari. Un vero e proprio miracolo azionario. ExxonMobil, l'investimento iniziale cresce a 3062, con un guadagno ipotetico di 2062 dollari. Stratosferico, un risultato notevole considerando il crollo del prezzo del petrolio. Il guadagno ipotetico totale, quindi sommando i guadagni ipotetici di tutte e 5 le aziende, sarebbe pronti 1970 più 1299 più 239 più 877 più 2062, 6448,90 dollari. I 5000 dollari iniziali al giorno d'oggi sarebbero 11448,90, più che raddoppiati. Parlando seriamente, bisogna però fare anche altre considerazioni. Si tratta ovviamente di un esempio ipotetico. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente. Non ho infatti tenuto conto di spese di commissione e del rischio stesso di fallimento del broker. Ricordo che diverse variabili, come le condizioni economiche future, le fluttuazioni del mercato azionario e le scelte di investimento individuali avrebbero potuto influenzare di gran lunga il rendimento finale. Tuttavia, questo esempio evidenzia come un investimento coraggioso al momento giusto in aziende solide con una buona prospettiva di futuro avrebbe potuto generare rendimenti davvero sorprendenti, anche durante la crisi del covid-19. Fermi, 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 fermi. Prima di investire tutti i vostri risparmi, investire in borsa comporta sempre dei rischi. Prima di investire è fondamentale fare le proprie ricerche, comprendere i rischi coinvolti e consultare un professionista finanziario per ottenere consigli personalizzati. L'obiettivo di questo video non è quello di dare consigli finanziari, ma di suscitare la vostra curiosità e di incoraggiarvi ad approfondire le vostre conoscenze sul mondo degli investimenti. Se siete interessati a saperne di più, vi consiglio di consultare siti web di informazione finanziaria, la nostra app Finance e leggere libri e articoli sull'argomento. Un'altra alternativa è parlare con un consulente finanziario qualificato. Forse la scelta migliore. Spero che questo video vi sia stato utile e stimolante, lasciate un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate e per suggerirmi nuovi argomenti da trattare nei prossimi video. Grazie per averci seguito e noi ci vediamo nel prossimo bellissimo video. A presto ragazzi!